Buongiorno, sono qui a Kilowatt Festival per presentare Coefore Rock'n'Roll. Il mio secondo lavoro fa parte di un progetto sull'Orestea, Trilogia della Vendetta. Ho già presentato un paio di anni fa la Gamennone, il prossimo anno presenterò le Omenidi e da qualche parte spero di fare nel 22 tutta l'intera trilogia. Questo lavoro si chiama Coefore Rock'n'Roll e a Kilowatt verrà presentato la prima versione teatrale perché ha debutato a Roma Europa l'anno scorso in una versione performativa, al mattatoio. Quindi sono anche abbastanza contento di presentare questa versione che poi nei prossimi mesi girerà alcuni teatri italiani. Il lavoro creativamente si avvale sempre dalla presenza di questi, i miei quattro danzatori, Saverio Evangelista, Alice Raffaelli, Robert Racis e Luca Della Corte, con la presenza del musicista DJ nell'area underground, ma abbastanza conosciuta, Lady Maru, le luci di Gianni Staropoli. Niente, è un lavoro naturalmente che cercherà di riprendere il pensiero chiaramente legato alle coefone. Quindi è un lavoro che parte dal concetto del matricidio. Niente, spero di presentare poi magari anche a Kilowatt, se sarà possibile poi l'intera trilogia. Niente, spero di presentare poi anche a Kilowatt, a Kilowatt. Sì, spero di presentare poi solo l'intera trilogia.